Oggi vediamo l'argomento la stima di sé nel pensiero di Freud. Per Freud la stima di sé è l'espressione della grandezza dell'Io, ovvero più grande si sente l'Io e più sente alzarsi la stima di sé e viceversa. Freud identifica tre sorgenti che vanno a aumentare o diminuire la stima di sé. La prima è quello che si possiede, quello che si è, quello che l'Io ha. La seconda è quello che si riesce a ottenere, a realizzare e la terza riguarda le relazioni amorose. Vediamo la prima sorgente, quello che sia, quello che l'Io possiede, quello che l'Io percepisce di sé come qualità o difetto, sulla base anche dello sguardo degli altri, quello che l'altro gli sottolinea come qualità o difetto. La qualità come il difetto può essere d'ordine fisico o psicologico, prendiamo le qualità, un ordine fisico, avere un bel fisico, essere belli. Oppure d'ordine psicologico, riuscire a esprimersi bene, riuscire a scrivere bene. Bene, quando si percepisce di avere queste qualità, ecco che la stima di sé aumenta. quando invece si hanno dei difetti, quando si percepiscono di avere dei difetti, un difetto fisico, oppure un difetto psicologico, difficoltà a esprimersi, a prendere la parola, difficoltà a scrivere, per esempio. Ebbene, ecco che la stima di sé va a diminuire ed è lì che Freud situa quello che Alfred Adler chiamava il sentimento di inferiorità, che per Freud ha un'origine un po' diversa da quello che pensava Adler, per il quale il sentimento di inferiorità nasce da un difetto organico, un difetto che si ha. Per Freud invece è un po' diverso. Prendiamo l'esempio di una donna che si guarda allo specchio e si percepisce come brutta, beh, col passare delle settimane si amerà di meno, dice Freud. E cosa significa in termini freudiani, con le parole di Freud, amarsi di meno? Ebbene, l'io si impoverisce di libido, avrà meno libido ed è questo a provocare il sentimento di inferiorità. Vediamo adesso la seconda sorgente che è quello che si riesce a ottenere, quello che si riesce a realizzare. E lì dobbiamo richiamare alla mente quella tensione che c'è tra l'io e l'ideale dell'io. Quando lo spazio tra i due diminuisce, ecco che aumenta la stima di sé. Quando invece lo spazio tra i due aumenta, ecco che allora diminuisce di tanto la stima di sé. In altre parole, quando uno riesce a realizzare un obiettivo, un ideale che ha, bene, ecco che aumenta la stima. Sul lavoro, per esempio, aspettato da tanto tempo la promozione ne ha fatto proprio un obiettivo, un grande ideale. Quando riesce ad ottenere la promozione, ecco che la stima aumenta. Se invece la promozione non lo tiene, ecco che diminuisce la stima di sé. E quando questo raggiungimento è di un ideale molto importante, si può anche arrivare a sentire un grande godimento e per alcuni casi, ecco, lì è da situare quel senso poi di superiorità. Vediamo adesso la terza sorgente che è la vita amorosa. Per Freud, quando si investe di libido, l'altro, quando si ama un'altra persona, automaticamente ci si impoverisce di libido, cioè l'io ha meno libido e dunque diminuisce anche la stima di sé. Ed è per questo che poi è importante avere come ritorno, essere, che l'amore sia corrisposto a avere come ritorno l'amore dell'altro, che l'altro ci ami anche. E questo poi farà rialzare la stima di sé, rimette un po' un equilibrio. Ci si sente di nuovo amati e dunque si ha il sentimento, la stima di sé che aumenta. Nel caso invece della persona che ha una nevrosi, ecco, per questione di conflitto, quando investe l'altro, quando comincia a amare l'altro, ecco che ritira la libido, proprio per questione di conflitto interno. E questa libido, che torna verso se stesso, va a investire le fantasie, nevrotico ha molte fantasie. Ma cosa succede? Che si può avere qualche soddisfazione a livello delle fantasie, ma poi, ecco, si ritrova che l'io non è amato dall'altro e dunque la stima di sé diminuisce. Si capisce bene con tutte queste descrizioni diverse sorgenti che, alla fine, quello che permette l'aumento, che va a aumentare la stima, o che va a diminuire la stima di sé, è l'amore. Che sia l'amore nei propri confronti, che sia il sentirsi amato in funzione di un raggiungimento, di un ideale, che sia l'amare l'altro, che sia l'essere amato dall'altro. Ebbene, ecco per quanto riguarda la stima di sé nel pensiero di Freud. A vederci.